Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì, quindi come ogni martedì esce un nuovo video delle Makeup's Angels. Questa settimana io, Fabiana e Elisabetta vi abbiamo proposto un video per quanto riguarda la nostra skin care routine. Sapete tutti che ognuno di noi ha una tipologia di pelle diversa, quindi automaticamente abbiamo un modo di detersione o di fare una skin care routine diversa l'uno dall'altro. Quindi io vi propongo la mia ovviamente, che ho messo tutto in questo cestello proprio per farvi vedere le cose che utilizzo e andiamo subito a farvi vedere i prodotti che utilizzo per quanto riguarda la skin care. Allora, di solito la mattina mi lavo il viso con una saponetta neutra e lo faccio sempre con la saponetta neutra. Di solito utilizzo quella della Nivea o quella della Roberts, fate voi. Dopodiché io una volta, posso dire uno ogni due giorni, faccio uno scrub leggero al viso. Questo scrub io lo faccio con lo scrub di Kiko, che è per il viso ed è ottimo, sia per quanto riguarda la profumazione, che ti dà quella sensazione di fresco ed è la stessa profumazione delle creme corpo che aveva, del doposole che aveva, del doposole che aveva proposto uno o due anni fa Kiko. Lo stesso odore, è pazzesco sul corpo, è una cosa, una godura a massimo. Comunque parliamo dello scrub. Io questo scrub lo utilizzo uno o due volte, no aspettate, io lo faccio uno ogni due giorni. Uno ogni due giorni, specialmente se so che il pomeriggio mi devo truccare. E' ottimo, è uno scrub leggero, non è molto abrasivo, toglie le pellicine morte, specialmente nella zona T, che io ne soffro tantissimo e quindi li utilizzo. Lo utilizzo con la spugnetta, scusate che è sporca, perché ho fatto la maschera l'altra, però quella nera al carbone, e la tolgo sempre con questa. Allora, questa è una spugnetta che io ho preso a Lidl, vedete qui si inseriscono le ditine. Questa spugnetta a contatto con l'acqua, quindi bagnata, diventa leggermente più grande. Quindi cosa faccio? Prendo lo scrub, lo metto nella spugnetta e lo strofino in tutto il viso. A me piace tantissimo, non è aggressivo nella pelle e veramente il risultato finale è ottimo. Oltre la pelle è morbidissima, ma di più il profumo che è inebriante. Quindi per me questo è una combo ottima. Poi sciacquo di nuovo il viso e poi utilizzo una crema con il contorno occhi. Io sto utilizzando queste qui di Sephora, il combo direttamente marca con marca. Quindi utilizzo la crema idratante sia per il giorno che per la sera. E poi utilizzo il contorno occhi, io mi trovo benissimo. Prima ho comprato questo, se non vi ricordate, avevo acquistato questo e mi sono trovata benissimo. E l'avevo utilizzato in combo con un'altra crema. Ma adesso che ho questa qui direttamente di Sephora, che è la sua proprio perfetta perfetta, utilizzo queste due. Faccio questa combo e poi di norma io mi metto un siero sul viso. E di solito metto o una volta questo o una volta questo. Queste si possono utilizzare sia mattina che sera e sono riempitivi per le rughe e molto idratanti. Quindi dipende cosa devo fare, utilizzo questi. E poi di norma faccio il make-up normalmente e faccio tutto un make-up elaborato oppure un make-up leggero come questo. Dopodiché, per quanto riguarda la skin care, al contrario, quindi lo struccaggio e tutto. Vi faccio vedere il panno, questo qui, perché l'altro è sporco. Ovviamente mi sono struccata ieri sera e è ancora sporco. Io cosa faccio? Prendo il panno che è questo, questo è quello nuovo. Io questi li ho presi su Aliexpress. E poi prendo il mio amato, amatissimo, e non lo cambierò con nessuno, Garnier. Allora, vi faccio vedere, non so se si vede dove è. È stupendo. Stupendo, cioè una cosa migliore di questa non la trovate. Allora, questo è un gel detergente purificante. Elimina l'impurità e tutto il make-up. Allora, io cosa faccio? Bagno questa spugnetta, clicco due push di detergente. Scusate, di detergente. Prima faccio gli occhi, perché di solito il trucco più pesante ce l'ho sugli occhi. Faccio gli occhi, do una passata all'occhio sinistro, sciacquo lo spugnetta, rimetto due pump di questo gel e faccio tutto il viso. Allora, si strucca che è una perfezione. Cioè, l'avete presente? È perfetta. E ha quella sensazione di mentolo, quindi di freschezza sul viso, che è specialmente in questo periodo che fa un caldo torrido e una manna del cielo. Io lo adoro tantissimo, infatti si vede che è utilizzato al massimo. Quando lo finisco lo ricompro, posso anche comprare altre mille cose, ma questo lo ricompro in assoluto perché mi sono trovata benissimo. Questa è una combo perfetta, veramente perfetta. Per quanto riguarda questa spugna, io di norma, dopo essermi struccata, pulisco questa spugna tramite la saponetta. Perché prendete la saponetta, strofinate nella spugna, fate questo movimento e la spugna vi rimane bianca, pulita. Io ce l'ho sotto perché ovviamente dopo che sono dieci utilizzi, la metto di lato nella retina e poi quando sono due o tre li lavo. Siccome ne ho prese sei o sette, se non mi sbaglio, di queste, quindi già ne sto mettendo in uso un'altra. E quando ne accumulo tre o quattro, li metto poi nella lavatrice, sempre dentro la retinetta e li lavo. Però io dieci lavaggi glieli faccio tranquillamente e li lavo con la saponetta, ritornano bianche, ve le posso assicurare. Poi dopo aver, diciamo, lavato il viso, dopo aver tolto tutto il make-up, io di solito metto il tonico perché sento il viso che è leggermente, come si dice, un po' tirato, un po' tipo che ho bisogno di idratazione. Però io di norma cosa metto? Metto il tonico, lo faccio stare un pochettino, lo tampono proprio con il cotone imbevuto di tonico. Questo è quello all'acqua di rose, l'ho quasi finito. Dopodiché rimetto la mia crema e il mio contorno occhi proprio sul viso. E per quanto riguarda la skin care, diciamo, routine anche serale, per me ho finito. Questo è tutto quello che io faccio per quanto riguarda la skin care. Non faccio altri tipi di cose. Una volta, ogni tanto, faccio lo scrub, quello più pesante, con quelle che, diciamo, si seccano sul viso, che devono stare 15 minuti e tutto. Ma di solito questo è per quanto riguarda la mia proprio skin care routine. Quello che faccio sempre. Io adoro questi prodotti e sinceramente mi sto trovando benissimo. Per quanto riguarda la crema, è molto molto morbida sulla pelle. E poi specialmente la sera, dopo essermi struccata e tutto. Io come crema, sia come crema viso che come contorno occhi, ne metto leggermente in più del normale. Perché so che il mio viso assorbe proprio tutto, ha bisogno ovviamente di idratazione, quindi assorbe tutta la crema, tutto il contorno occhi. Proprio se lo ciuccia, è una cosa esagerata. Proprio perché ha bisogno di idratazione. Niente ragazzi, allora, questo è per quanto riguarda la mia skin care routine. Ovviamente sono molto curiosa di sapere cosa vi hanno proposto le altre due amichette. Perché ovviamente, come ho detto all'inizio, ognuna di noi ha una pelle diversa. Quindi ognuna di noi ha esigenze diverse. Quindi andiamo subito, e parto anche io per prima, a vedere cosa ci hanno proposto sia Fabiana che Betty. E ditemi ovviamente cosa utilizzate voi, se utilizzate le stesse cose, o se utilizzate prodotti diversi, o se volete darmi qualche consiglio, non lo so. Fate voi, perché per me va bene tutto. Io per questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! 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 Ciao!